Eccoci, eccoci qua. Allora, il video di oggi semplicemente consiglio un esercizio. Consiglio un esercizio che io applico, che io provo una mattina. Quando ci si sveglia, ci si alza, con sonno un po' anche ancora si sta dormendo, il consiglio veramente che do è canticchiare in quei momenti, perché ancora la mente non è del tutto sveglia, è ancora un po' dorme. Stai dormendo, quindi, cioè la fai entrare, se lo fai tutti i giorni, la fai entrare nel ciclo di... In pratica è come se ancora dormisse, allora assimila, assimila quello che gli stai cantando, quello che stai cantando in vita, un'energia giusta per postare la giornata come la desideri tu, perché in pratica se le imposti come la giornata, la giornata cosa succederà? Che in pratica la mente che ancora sta dormendo percepisce questa cosa come naturale perché non se ne accorge. E se canticchi veramente tutte le mattine, la sera, ma anche la mattina, in pratica succede che la mente diventerà naturale canticchiare, a un certo punto sarà lei, anche, che ti chierà in testa del mondo e neanche te ne accorgerà, e avrai delle idee, e avrai sempre delle idee diverse, nuove. E perché? Perché tu hai inviato la mente, praticamente ha per assoluto il figlio mentale che sono queste melodie, lo devi fare spesso, lo devi fare in modo che diventi un'auto, come ogni cosa che dico, devi diventare un'auto. In pratica non è che l'ispirazione nasce da nulla, nasce da una serie di atti che la mente ha. La mente, se tu continui a canticchiare, proprio oggi si alza la mattina, magari un attimo di respiro, ma subito dopo, canticchiare, respirare, e proprio sentire, che si faccia con sei minuti. Prima ti dà energia, ti dà carica per la giornata, è come fare l'esercizio fisico alla mattina, ti dà carica, proprio energia, e allo stesso tempo si voglia la mente che ancora sta dormendo, a canticchiare, e questo diventerà un esercizio che porterà veramente a un certo punto, canticchierai melodie neanche te ne accorgi, neanche te ne accorgi, e farai melodie, farei questa melodia. Allora prenderà lo strumento, canticchierà, fare tutta una serie di cose, perché sarà la mente a darti input, non tu che lavori per la mente, la mente che lavora per te. Quindi farei così, semplicemente, fare questo esercizio, canticchiare una mattina, perché veramente dà quegli input giusti, farlo spesso, perché 3-4 minuti, non importa ma farlo, che sarei così per oggi. Ciao, ciao!